I concerti della Camerata, gli spettacoli del Maggio, le trasferte alla Scala di Milano e ora anche l'Opera all'Arena di Verona. È ampia, ricca e sempre più coinvolgente la finestra sulla musica cosiddetta colta, aperta dall'Istituto Tecnico Gramsci Keynes per permettere ai propri studenti di recuperare una materia non prevista nel proprio percorso scolastico. Il progetto, che coinvolge altri due istituti tecnici e professionali, Marconi e Dagomari, è nato tre anni fa e oggi conta 200 studenti, 45 di loro giovedì 23 febbraio saranno nella città scaligera per assistere all'Opera di Vincenzo Bellini, Capuleti e Montecchi, la novità di quest'anno. Speriamo che questa piccola passione che trasmettiamo rimanga in loro e gli aiuti non solo a approfondire le tematiche che facciamo a scuola, ma anche a approfondire la propria identità di italiani e di europei. Il percorso, che coinvolge anche i corsi serali, prevede anche il ritorno alla Scala di Milano. Lo scorso anno i ragazzi hanno assistito alla cena delle Beffe. Quest'anno, se tutto sarà confermato, toccherà la Gazzaladra di Rossini, un appuntamento atteso che fa da cornice a un programma ricchissimo che alterna concerti della camerata e spettacoli al maggio musicale, ma anche lezioni concerto a scuola. Ogni spettacolo viene preceduto da un'adeguata preparazione in classe. Credo che possa aprire ai ragazzi degli spazi diversi, anche per vivere emozioni che altrimenti vanno a cercare in altre situazioni. Quindi credo che la scuola abbia il dovere di far conoscere ai ragazzi questo mondo e questa è la nostra speranza, di portarli ad apprezzare questo genere di musica e appunto a vivere emozioni intense in maniera positiva.